Il povero barbone, avanti a un'emoteca, del cappello va su, se assaggiatori, entra e si presenta, ma lei che cosa vuole? Sono qui per l'annuncio che avete fuori. Dagli da bere, così questo se ne va. Ecco il bicchiere, così la sua giornata farà. Questo è Sangiovese, annata 2021, viaggiato qui in piedi e nemmeno lavati tanto bene. Sono spalordito, e adesso che facciamo? Per dirgli che noi comunque non lo assumiamo. Non basta il rosso, anche il bianco deve assaggiare. Sono commosso, ora che sembra di apprezzare. Ma vanno nell'ufficio, dalla loro segretaria. Presto fai la pipì, mentre reggo questo bicchiere a mezz'aria. Guardi, non è molto fresco, ma sa, è solo per l'assaggio. Lui guarda un po' in Cagnesco, chissà, ma poi si fa coraggio. Questo non è vino, questa è urina di donna. Direi tra i 27 e i 33 anni. Salve il video e seguimi per altre canzellette. Grazie.